Perché c'è l'associazione tatuaggi piercing? Non me lo sono mai spiegato, o meglio, me lo sono spiegato. Anni 70, ambiente punk, l'ambiente punk comincia a tatuarsi, piercing, hanno accomunato e fino ad oggi noi accomuniamo piercing e tatuaggio alla stessa stregua. Quindi il tatuatore deve fare anche i piercing, che secondo me non ha senso, almeno per come vedo io il tatuaggio, perché per me il tatuaggio è arte visiva, il piercing è un'altra cosa, per me il piercing dovrebbe farlo, chi è che lo faceva una volta, il gioielliere, qualcosa del genere, non lo so, non vedo l'associazione, però immancabilmente c'è questa associazione, tatuaggi, piercing, trucco permanente. Piercing e trucco permanente sono, dal mio punto di vista, una cosa prettamente estetica, anche il tatuaggio è estetico, ma implica una serie di tecniche e di attività che sono completamente diverse. Ogni tanto c'è qualcuno che sento dire, no, ma quello lì è bravo, dovrebbe fare anche il trucco permanente, disegna così bene. Disegnare bene e fare il truccatore sono due cose diverse. Non c'entrano un cazzo, chiariamola sta cosa, non c'entra un cazzo. Però, vabbè, a me questa roba qua non è mai piaciuta, non me ne frega niente, ognuno è libero di fare quello che vuole, però per me questa cosa qua che i tatuaggi e il piercing devono andare per forza insieme, non lo so, è come pretendere che un parrucchiere debba fare anche le unghie. Sì, lo fa, può farlo, sono cose vicine, però non lo so, perché dovrebbe, è obbligato? Parrucchieri, unghie, sbiancamento anale, yeah, ma perché?